Siamo con Alessandro Bertini, guardiale della Palacanestro a Ghibertocchio-Uzinovi, con Matteo Mattioli, primo assistente della squadra per presentare la partita di domenica contro 100. Ale, raccontaci com'è andata la settimana di allenamenti e che tipo di partita ti aspetti contro 100. La settimana sta andando molto bene, stiamo lavorando in maniera dura, perché c'entro un secondo me del mio rischio di campionato, ha dei giocatori molto forti, molto esperti che fanno danni in questa categoria, poi giocheremo anche contro l'ex MVP di questo campionato che è il Sabin e sicuramente dovremmo essere duri fin dall'inizio, mi aspetto una vera partita. Matteo, dici un po' le caratteristiche di questa 100. 100 è una squadra che fa del ritmo e del tiro dentro i suoi punti di forza, noi dovremmo essere bravi a limitarli in questo, soprattutto come ha detto Alessandro che hanno l'ex MVP del campionato Sabin, che è un giocatore molto pericoloso dall'arco e dobbiamo essere bravi a fermarlo. Bene, l'appuntamento è per domenica 19 novembre al Pala Bertocchi con Pala 2 ore 18, ovviamente invitiamo tutti a venire perché sarà una partita molto importante e il supporto del pubblico è sempre fondamentale. Ciao a tutti!